In casa aveva allestito una vera e propria serra di marijuana indoor con tanto di materiale per il confezionamento, ma è stato scoperto dai militari del Norma di Sansepolcro e per un giovane Biturgenze si sono aperte le porte del carcere. Tutto è partito da un normale controllo nella notte tra sabato e domenica, quando i militari hanno fermato un'auto con alla guida il giovane. Il 25enne è stato controllato ed è stato trovato in possesso di circa un grammo di marijuana e di uno spinello già confezionato. I carabinieri hanno poi approfondito le ricerche scoprendo ben nascossi tra la fodera dei sedili dell'auto altri 8 grammi di droga. I militari hanno così deciso per una perquisizione domiciliare del 25enne ed è a casa del ragazzo che è stata scoperta la serra per la coltivazione indoor delle piantine di marijuana. I militari hanno quindi sequestrato materiali per la coltivazione e lo spaccio della sostanza come bilancini di precisione, bustine di celofane e carta stagnola, oltre ad alcune piantine in fase di sviluppo e denaro di vario taglio. Il giovane invece è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.